Ciao a tutti ragazzi, anche questa volta per il secondo video di fila un video un pochino diverso da quelli delle attrazioni turistiche di Sydney. Siamo comunque in città, faremo un giro per la Sydney un pochino più nascosta, ovvero delle zone o dei posti particolari di Sydney che sono magari vicini a delle attrazioni simboliche della città, ma che sono molto meno conosciute rispetto a queste attrazioni, quindi possiamo unire all'attrazione principale anche qualcosina di un pochino più di nicchia. Adesso vi faccio vedere quello che ho realizzato e spero che vi piaccia. Grazie a tutti. 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 Io spero che il video vi sia piaciuto, magari mettete un like e condividetelo anche con i vostri amici per fargli conoscere delle zone un pochino diverse sui Sydney. Se avete magari qualche curiosità, qualche domanda da qualche commento potete appunto lasciarlo qui sotto, vi ricordo anche che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in più ci sono varie informazioni tipo quello che sto, il materiale che uso per registrare i video, se a qualcuno può interessare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.